Allora, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video di tecniche di programmazione. Come già accennato abbiamo terminato, diciamo così, le lezioni teoriche di questo corso e in queste ultime due settimane proveremo a risolvere insieme dei temi d'esame, gli ultimi temi d'esame più recenti. E oggi partiremo proprio con l'ultimo esame in ordine cronologico, che è quello del 20 gennaio del 2020. Esame che è su un database che conosciamo già, abbiamo già utilizzato nei nostri esercizi, che è quello di Artsmia. Vi ricordo che, come detto su Telegram, trovate i temi d'esame e in particolare i progetti base dei temi d'esame su GitHub sotto TDP esami, ok? Quindi non sotto TDP 2020, ma sotto TDP esami trovate una lunga carrellata anche di temi d'esame più vecchi. Oggi ci focalizziamo su questo qui, che è già stato convertito in JDK11. Quindi se clonate questa versione con il suffisso JDK11, avete già il progetto base e siete pronti per partire. Probabilmente avete già provato a risolverlo, in questa video lezione potete confrontare la vostra soluzione con quella proposta. Allora andiamo a vedere il testo dell'esame. Dunque, il DB come dicevamo lo conoscete già, abbiamo queste varie tabelle che modellano artisti e oggetti d'arte, opere d'arte, collegati da una relazione molti a molti tramite la tabella Autorship. e poi abbiamo le Exhibitions, cioè delle fiere dove questi oggetti d'arte sono stati esposti. Anche qui una relazione molti a molti tra l'Exhibition e gli oggetti tramite la tabella Exhibition Objects. Andiamo a vedere il testo. Il punto 1 richiede innanzitutto di popolare un menu a tendina, questo qui, ruolo, con i possibili ruoli degli artisti. Il testo ci dice dove andare a pescare questi ruoli. Colonna Roll della tabella Autorship, permettere all'utente di selezionarne uno. Alla pressione del bottone Crea grafo, si dovrà creare un grafo semplice, pesato e non orientato, i cui nodi siano gli artisti, ovviamente filtrati secondo il ruolo selezionato nel punto precedente. E un arco collega due artisti solo se hanno esposto insieme in una stessa Exhibition. Ovviamente due artisti con il ruolo selezionato, ma questo avviene prima, il filtraggio. E quindi c'è un arco solo se le loro opere, objects, appaiono contemporaneamente in una delle possibili mostre. Il peso dell'arco in particolare è pari al numero di esposizioni in cui i due artisti hanno esposto almeno un oggetto insieme. Quindi la struttura è simile, ricorda un po' l'esercizio che abbiamo fatto a lezione in precedenza. Solo che qui si invertono un po' i ruoli. Là avevamo come vertici, mi sembra di ricordare, gli oggetti. Qui abbiamo gli autori. Premendo il bottone artisti connessi si stampi l'elenco delle coppie di artisti ed il numero di esposizioni comuni, in ordine decrescente di quest'ultimo. Una stampa del grafo, diciamo così, molto semplice. Direi di partire col punto 1, mentre il punto 2, ricorsivo, lo vedremo dopo. Ok, vado nel mio progetto base, al solito contiene già diverse cose, tra cui l'impostazione del controller con il modello, qualche metodo del DAO. E poi nel package model abbiamo le classi che descrivono due oggetti di interesse del DB, le exhibition e gli art object, e poi il modello che ovviamente è vuoto. Direi di partire, come al solito, per il punto 1 dalla query, fondamentale prima di buttarsi a scrivere codice, avere in mente come strutturare la query, che è il punto cruciale della prima parte dell'esame. E per farlo, al solito, andiamo direttamente sul client MySQL. Il database dovremmo avercelo già, eccolo qui, artsmia. E per non sbagliare, direi sempre di pensare all'approccio più efficiente, ovvero quello di recuperare tutte le informazioni del grafo e soprattutto degli archi direttamente dal database. Allora, cosa dobbiamo estrarre dal database? Beh, sicuramente delle coppie di artisti, in quanto i vertici sono degli artisti. E poi un'informazione sul peso, che possiamo già immaginare sarà un conteggio, perché dovremo contare quante volte questi artisti hanno esposto degli oggetti nella stessa, in una stessa exhibition. Quindi, select, sicuramente dovremo fare il join della stessa tabella con se stessa, quindi avremo due tabelle artisti proprio per mettere, per recuperare queste coppie. Quindi, supponiamo di avere una tabella che rinomineremo a 1 punto artist id, rinominiamolo, ma possiamo anche lasciarlo così per il momento, virgola a 2 punto artist id. Queste saranno le nostre coppie di artisti, from artist a 1, virgola artist a 2. Dopodiché avremo sicuramente un conteggio, count di qualcosa as peso. Adesso, ci dobbiamo chiedere, andiamo a guardare un attimo la struttura del nostro database, da dove recuperiamo questa informazione sul fatto che gli oggetti di questi due artisti appaiano contemporaneamente in una delle possibili exhibition. Andiamo a vedere la struttura. Noi abbiamo preso id da questa tabella artist, ma ovviamente le exhibition stanno tutte da un'altra parte, su altre tabelle, quindi sicuramente avremo bisogno di fare delle join. Poi in particolare l'informazione su dove sono stati mostrati questi oggetti l'avremo in questa tabella, nella tabella temporanea che modella la relazione molti e molti tra l'exhibition e gli oggetti. Quindi dovremmo fare un giro un po' lungo per passare da questa tabella artisti da cui recuperiamo gli edi fino alla tabella exhibition objects, lo dobbiamo fare per forza. Quindi sicuramente queste una e direi sicuramente questa tabella nella query ci saranno, questa forse possiamo non considerarla, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora torno qui, direi che possiamo sicuramente aggiungere la tabella authorship, chiamiamola au, va bene. Per appunto recuperare le informazioni sugli oggetti dei determinati artisti che andremo ad estrarre e poi avremo anche la tabella exhibition objects e o. Andiamo a vedere se ci basta, lo scopriremo pensando alla clausola di where. Allora cosa dobbiamo imporre? Beh sicuramente abbiamo un filtro sul ruolo, ruolo che deciderà l'utente dal menu a tendina. Questo ruolo ovviamente dovrà essere uguale per tutti e due gli artisti. Dove recuperiamo questa informazione sul ruolo? Eccolo qui, dalla tabella authorship. Questo è un altro motivo per cui ci serve questa tabella perché la specifica sul ruolo è in questa tabella e non nella tabella artisti. Quindi possiamo dire where au.roll uguale punto interrogativo sarebbe in Eclipse. Però qui scrivendo questa cosa ci dovrebbe venire in mente che visto che dobbiamo impostare il ruolo per entrambi gli autori sicuramente ci serviranno anche due tabelle authorship. Authorship a1, authorship a2, virgola. In modo tale da poter impostare a1.roll punto interrogativo, magari andiamo a prendere un ruolo dalla tabella, supponiamo designer. And au2.roll uguale designer. Ovviamente dobbiamo fare il join delle due tabelle degli artisti a1 e a2 con le corrispettive a1 e au2. Quindi scrivo and au1 punto artist id uguale a1 punto artist id. And au1, au2 scusate, punto artist id uguale a2 punto artist id. Vediamo se riusciamo a sistemare un po' meglio la query. Perfetto. Dopodiché. Dovremmo anche mettere in corrispondenza Se andiamo a vedere la struttura Dovremmo anche mettere in corrispondenza La tabella authorship con la tabella exhibition objects Prima ho detto che dobbiamo fare in sostanza questo giro qui, no? Passare dalla tabella artist alla tabella exhibition object Visto che noi degli oggetti ci interessa solo contarne il numero Possiamo evitare questa tabella objects di tirarcela dietro Perché non ci serve nessuna informazione sugli oggetti di per sé Ci serve solo contarli Quindi possiamo passare direttamente da questa tabella a questa Unendole attraverso il campo object id Che ovviamente è sia nella tabella authorship che nella tabella exhibition object Quindi sicuramente anche qui ci vorranno due tabelle exhibition object Copio E o 2 E avrò anche qui due clausole di join Quindi a u 1 punto object id dovrà essere uguale a e u 1 punto object id And a u 2 punto object id dovrà essere uguale a a 2 punto object id Ok Poi un altro motivo per cui ci servono due tabelle exhibition objects È perché dobbiamo imporre che la exhibition sia la stessa Quindi and e u 1 punto exhibition id deve essere uguale a e u 2 punto exhibition id Adesso proviamo a fare una cosa Togliamo un attimo il conteggio E vediamo che cosa ci tira fuori la query fatta così Che coppie ci tira fuori Proviamo a lanciare la query Ovviamente ci sono dei problemi Dobbiamo debaggarla un po' Unknown column a 2 punto object id Ah certo perché qui non è a 2 ma è e o 2 Vediamo un po' Run Ok Quindi in sostanza qui stiamo tirando fuori tutte le coppie di artisti che hanno lo stesso ruolo Però con questa query ovviamente innanzitutto vedete che abbiamo già la prima riga ce lo dice Anche lo stesso artista con se stesso diciamo così Quindi dobbiamo cercare di filtrare le nostre coppie Se controllassimo bene ci accorgeremo anche che ci sono le coppie invertite 1 2 2 2 1 Quindi il solito trucchetto per filtrare queste coppie è di porre ad esempio And a 1 punto artist id maggiore di a 2 punto artist id Lo possiamo fare perché stiamo selezionando gli id Perfetto Se noi qui aggiungessimo Il conteggio Conteggio di che cosa? Del numero di esibizioni In cui i due artisti hanno esposto insieme Questo controllo l'abbiamo già impostato qui Quindi siamo passati dalla tabella artisti fino alla tabella exhibition id E abbiamo imposto che l'exhibition id fosse uguale Quindi possiamo contare uno dei due E ho uno punto exhibition id E speso Per non saperne leggere né scrivere Aggiungiamo anche un distinct Noi vogliamo contare il numero di esibizioni distinte Ok quindi sicuramente il distinct ci andrà E io lo aggiungo In questo modo se la query mi tira fuori delle esibizioni duplicate Io le vado a filtrare conteggiando solo il numero diciamo così univoco di esibizioni Ovviamente abbiamo inserito un conteggio Una funzione di aggregazione Serve la group by Group by Copio gli artisti Proviamo un po' Ok Abbiamo una serie di coppie In cui Il peso va da 4 in giù Quindi la maggior parte di queste coppie ha esposto in un'unica fiera insieme Alcuni di loro Alcune coppie invece hanno esposto in 4 tra i due exhibitions Quindi questa in sostanza è la query Diciamo che la struttura molte volte si somiglia Bisogna solo fare attenzione a capire bene cosa si sta facendo In questo caso direi che l'unica cosa particolare che abbiamo fatto è tralasciare questa tabella objects Che non ci serviva e passare direttamente dalla tabella authorship alla tabella exhibition object Facendo il join di queste due tabelle senza passare da questa Dopodiché se aveste fatto anche un join ulteriore non inficiava sul risultato Veniva la query solo un po' più lunga Ok Direi che ci siamo Copiamoci questa query e torniamo indietro al nostro progetto Eclipse Partiamo dal DAO E ovviamente avendo scelto questa strategia di farci dare tutte le informazioni dal DB Ovviamente ci servirà una classe per estrarre queste informazioni La nostra solita classe adiacenza Quindi abbiamo un metodo public che ritornerà una lista di adiacenza Classe che andremo a crearci a breve Get adiacenze Mettiamo un po' lo zoom Ok Riceverà qualche parametro questa query Questo metodo sicuramente sì il ruolo selezionato dall'utente Solito pattern quindi string sql qui andiamo a incollarci la nostra query Lavoro solito di sistemazione è speso magari rinominiamo anche un attimo i due id così sarà più facile recuperarli dal result set From le varie tabelle togliamo lo slash n spazio Where qui ovviamente non sarà designer ma ci andiamo a mettere i punti interrogativi Togliendo anche lo slash n spazio Questo va bene Qua sotto pure Via gli slash n E dovremmo esserci Dopodiché mi copio dai metodi sopra Il try catch Eccolo qua E all'interno cosa facciamo Innanzitutto andiamo a definire la nostra lista di adiacenze in cui andremo a estrarre i risultati New array list di adiacenza Magari la mettiamo fuori dal try catch Perfetto Poi sempre fuori dal try catch ci facciamo dare una connessione dalla classe db connect E andiamo poi a crearci il prepare statement A inserire i parametri In questo caso dobbiamo settare due volte il ruolo Set string 1 ruolo E st.set string 2 ruolo Poi andiamo a eseguire la query Copiata da sopra Quindi execute query E poi andiamo a scorrere il result set Quindi while res.next Finché c'è una nuova riga Una nuova coppia Una nuova adiacenza Io vado ad inserirla nella mia lista Quindi adiacenze.add New adiacenza Ora questa classe è ancora da creare ma possiamo già immaginarcela Avremo i due id e il peso Quindi res.getint L'abbiamo rinominato opposta a 1 Virgola Res.getint A2 Virgola Peso L'abbiamo rinominato Qui visto che è un conteggio e non una media Possiamo immaginare questo peso anche come un intero Quindi res.getint Peso Punto e virgola E alla fine dopo il while mi ricordo di chiudere la connessione E poi ritorno le mie adiacenze Perfetto Prima di creare la classe adiacenza Possiamo anche ragionare ma ci serve un identity map qua oppure no Visto che nel Grafo Per mantenere le cose semplici Andremo ad inserire direttamente gli id degli artisti Quindi dei semplici interi Direi che in questo caso è superfluo creare un identity map Ok? Quindi ci manteniamo il più semplice possibile Usiamo come vertici dei tipi di dato numerici In questo caso evitiamo di aggiungere complessità E non è uno spreco ma nell'esame forse sì Usare del tempo utile per creare un identity map Che non influisce poi sul risultato finale Ok Creiamoci quindi nel package model La nostra classe adiacenza Quindi semplicissimo abbiamo tre interi Private Integer A1 Private Integer A2 Ops Private Integer Peso Chiediamo al gentile eclipse di generarci un po' di cose Tra cui i get resetter Eccoli qua Poi il costruttore Con i tre campi E per il momento direi che siamo a posto così Perfetto E avendo impostato il metodo del DAO Possiamo ora passare al modello E andarci a creare direttamente il grafo Allora Il testo ci dice già che tipo di grafo dobbiamo andare a creare Un grafo semplice Non orientato Pesato Quindi Definiamo già Il nostro riferimento al grafo Private Graph Abbiamo detto Manteniamo le cose semplici Il grafo modella degli artisti A noi basta Utilizzare una classe Integer Inseriremo solo gli id Degli artisti Inoltre Usiamo la classe Default Weighted edge Per gli archi Che è un grafo pesato Poi potremmo anche definirci Dopo aver importato un po' di classi Potremmo anche definirci Una lista di adiacenze che andremo a recuperare dal nostro grafo E poi magari anche un riferimento al DAO Così lo creiamo una sola volta Arts Mia DAO DAO E vado a importare le varie classi Adesso vado a importare la mia adiacenza anche nel DAO Così risolviamo tutti gli errori Ok Salvo Ripeto ancora una volta Ho scelto di modellare il mio grafo inserendo degli id Al posto di un oggetto autore Per semplicità Anche perché se andiamo ad analizzare il testo Non ci viene detto da nessuna parte di stampare il nome dell'artista eccetera E quindi io ho fatto questa supposizione Uso gli id e basta Se mai mi servisse stampare anche il nome di un autore vado a recuperarmelo dal db a partire dal mio id Ma non è richiesto nell'esame Anzi anche nel secondo punto dove andremo a calcolare un percorso dato un artista Questo dato un artista si traduce nell'input di un id Quindi ce lo possiamo fare modellando e stampando solo gli id E' una scelta mia ma vi consiglio che quando non è esplicitamente richiesto stampare informazioni aggiuntive sui nostri oggetti che modelliamo Cercate di scegliere la strada più semplice possibile Ok Quindi torno nel mio modello E iniziamo a impostare il modello Con il costruttore Public model Cosa faccio nel costruttore? Bah direi che il grafo è bene Ricrearlo ogni volta nel metodo che andremo a fare crea grafo Come abbiamo già imparato a fare La lista di adiacenze è bene ottenerla anche in questo metodo Perché la otterremo a partire da un input dell'utente Quindi possiamo dire che nel modello Nel costruttore del modello l'unica cosa che ha senso fare è creare il nostro DAO Uguale new artsmia DAO Invece avremo il metodo come detto public void crea grafo Che farà le altre cose Questo metodo riceve ovviamente il ruolo dal controller Prima cosa da fare andiamo a crearci il grafo Altrimenti becchiamo una bella null pointer exception Quindi dis.grafo uguale new Simple weighted graph Di che cosa? Di integer come vertici Virgola default weighted edge come archi E dobbiamo anche dirgli tra le parentesi tonde Default weighted edge punto class Sempre uguale Importiamo simple weighted graph Perfetto Andiamo avanti Cosa facciamo come prima cosa? Andiamo a recuperare le adiacenze Adiacenza Adiacenze Uguale Dis.dao.get Adiacenze String Ruolo Adesso Come avete già imparato a capire Avete fatto anche delle domande su questo punto Abbiamo sostanzialmente due opzioni Che riguardano l'introduzione dei vertici nel grafo La prima opzione è farsi dare tutti i vertici che dobbiamo inserire nel grafo dal db e successivamente aggiungere gli archi tra questi questi vertici con le nostre adiacenze L'altra soluzione è avendo nelle adiacenze gli id usiamo questi id ogni volta per controllare se tali vertici esistono già nel grafo oppure no e se questo non è vero se non ci sono ancora aggiungerli direttamente Qual è la differenza? La differenza è che nelle adiacenze potrebbero mancare dei vertici Vertici magari isolati che non hanno appunto un'adiacenza con nessuno Qual è la soluzione migliore? Beh beh dipende, dipende dalle richieste dell'esercizio Quando parliamo magari di componenti connesse, quindi quando l'ultima richiesta è stampa il numero di componenti connesse Forse è bene aggiungerli tutti i vertici, quindi aggiungerli a priori prima dell'adiacenza Altrimenti se non è richiesto esplicitamente questo Ma tutte le richieste si basano, sono relative a dei vertici che hanno un'adiacenza Come in questo caso Quindi in cui si stampi l'elenco delle coppie di artisti connessi Anche il punto 2 è relativo agli artisti che hanno una connessione Perché si tratta di una ricerca, di un percorso Allora forse può anche valer la pena di inserire solo i vertici che recuperiamo dalle adiacenze Non c'è una soluzione giusta, una soluzione sbagliata Questo appunto dipende dalle richieste dell'esercizio In questo caso direi che possiamo andare direttamente a inserire i vertici prendendoli dalle adiacenze For adiacenza a in adiacenze Quindi mi chiedo se il grafo non contiene i due vertici della adiacenza Li vado ad aggiungere Quindi if not this punto grafo punto contains vertex a punto get a 1 Se non lo contiene this punto grafo punto add vertex a punto get a 1 E facciamo la stessa cosa Questo va dentro Facciamo la stessa cosa per A2 Quindi mi copio queste due righe di codice A2 Aggiunti due vertici eventualmente poi aggiungiamo l'arco Anche qui essendo un grafo non orientato Controlliamo se l'arco c'è già è inutile aggiungerlo Altrimenti lo vado ad aggiungere Quindi if this punto grafo punto get edge a punto get a 1 A punto get a 2 Se questo è uguale uguale a nullo Questo vuol dire che l'arco non c'è ancora Lo andiamo ad aggiungere Lo aggiungiamo tramite la classe graphs Punto add edge with con i vertici Quindi this punto grafo Il nodo sorgente sarà A punto get a 1 Il nodo destinazione sarà get a 2 E il nostro peso sarà A punto get peso Benissimo Stampiamo anche magari quanti vertici abbiamo creato E quindi stampiamo ad esempio Numero vertici due punti più dis punto grafo punto vertex set punto E stampiamo anche il numero di archi Edge set perfetto Adesso aggiungiamo un altro pezzo al nostro esercizio Da richiesta l'utente deve poter selezionare un ruolo dalla tendina e passarcelo in questo metodo crea grafo Per questo motivo noi dovremmo estrarre tutti i ruoli dal db per popolare la tendina Quindi in sostanza da modello dovremmo esporre verso il controllore un metodo che ci ritorni una lista di ruoli Una lista di string Get ruoli Ruoli che appunto andiamo a prendere dal dao dal db Quindi dis punto dao punto get ruoli La query in questo caso per ottenere i ruoli è molto semplice quindi la facciamo direttamente qui in eclipse String sql anche il testo ce lo dice andate a prendere questa informazione dalla colonna role della tabella authorship Benissimo quindi noi possiamo dire che la query è select ovviamente distinct role from authorship Magari li ordiniamo anche order by role ask Dopodiché la nostra lista di appoggio per ritornare il risultato sarà una lista di string Ruoli uguale new array list di string E poi la connessione che copio da sopra è il nostro solito try catch Try catch Il prepare statement Non dobbiamo impostare nessun parametro in questo caso quindi eseguo direttamente la query E finché c'è un risultato lo vado a mettere nella mia lista ruoli Quindi punto add res punto get string roll Chiudo la connessione e ritorno la mia lista Perfetto Direi che ora abbiamo praticamente tutto per collegare il nostro modello al controllore Magari prevediamo anche due metodi per restituirci la dimensione del grafo Così da poterla stampare nell'area di testo Quindi int vertici Return this punto grafo punto vertex set punto size Ok passiamo al controllore Artsmia controller Abbiamo un unico bottone qui che deve fare tutto il nostro lavoro No in realtà abbiamo anche il bottone crea grafo da qualche parte Eccolo qua Perfetto scusate Quindi qui andiamo a recuperarci il ruolo selezionato dall'utente Dalla tendina Ovviamente questo mi fa venire in mente che la tendina va riempita Quindi la tendina conterrà delle stringhe E direi nella set model dopo aver impostato il modello vado a riempire la tabella La tendina box ruolo punto get items punto add all this punto model punto get ruoli Perfetto In crea grafo mi vado a recuperare la il ruolo selezionato dall'utente Dis punto box ruolo punto get value Se questo ruolo è nullo ovviamente errore e non vado avanti Quindi txt result punto append text seleziona un ruolo Return Altrimenti sono qui sotto e posso provare a creare il grafo Quindi dis punto model punto crea grafo Con il ruolo selezionato E poi andiamo a stampare String punto format Per semplificarci un po' la vita Grafo creato con Per cento di vertici e per cento di archi Virgola i due parametri Quindi dis punto model punto vertici Virgola dis punto model punto archi I due metodi che ci siamo appena creati nel modello Per recuperarci la dimensione del nostro grafo Proviamolo Guardo solo se la password è giusta No Devo mettere la mia Root root E proviamo a lanciare il main Ok Se provo a creare il grafo mi dà l'errore di selezione Ottimo Proviamo con calligrafer Crea grafo Grafo creato con 21 vertici e 210 archi Sembra funzionare Direi che per curiosità possiamo anche provare a Inserire proprio tutti i vertici Non solo quelli che recuperiamo dalle adiacenze Per far ciò Dobbiamo ovviamente predisporre Nel nostro DAO Un metodo che ci ritorni Tutti gli artisti che hanno un determinato ruolo No Quindi Public List In questo caso I nostri vertici sono degli interi Get Artisti Che hanno un determinato ruolo Beh questa query dovrebbe essere molto facile Dobbiamo solo fare il join tra queste due tabelle Tra artisti ed authorship Quindi String SQL L Uguale Select Direi Vediamo un po' come si chiama il campo Artist ID From Artists E virgola Autorship La rendiamo a capo Where No Sì la from l'ho già messa Where Facciamo la join su Su Artist ID Quindi magari diamo Rinominiamo A E AU Where A.artist ID E' uguale a AU.artist ID And La condizione è sul ruolo Quindi AU.roll Uguale Punto Interrogativo Adesso andiamo ad eseguire il nostro query con la lista di appoggio una lista di Integer Result O chiamiamola artisti Uguale new Array List Di Integer La connessione Il try E il catch Ops Una parentesi di troppo Prendo Creo il prepare statement In questo caso devo impostare un parametro che è il ruolo Set string Uno ruolo E poi vado a eseguire la query Quindi Result set Execute query E finché Res.snext No Res.next Vado ad aggiungere Il mio artista La mia lista artisti Artisti Punto Add RS Punto Get Int Artist ID Non l'ho rinominato Uso il suo nome Completo Res Con Punto Close Return Artisti A questo punto nel mio modello Prima di recuperarmi lì le adiacenze e aggiungere gli archi Faccio una bella graph Punto add all Dei vertici Dove nel mio grafo quali sono i vertici Recupero dal dao Dis.dao.get Artisti Ruolo In questo modo sono sicuro di aggiungere Tutti gli artisti di un determinato Che hanno un determinato ruolo Al netto che questi abbiano o meno una adiacenza Quindi Facendo questo Questo cambiamento Questi controlli E queste aggiunte dei vertici Qui ovviamente non servono più Perché questi vertici sicuramente ci saranno nel grafo E quindi aggiungo solo più l'arco Vediamo se cambia qualcosa nei numeri Proviamo a di nuovo creare il nostro grafo con Calligrafer Crea grafo C'è un'eccezione Una null pointer exception Nell'aggiunta dei vertici Che cosa sarà nullo? Vediamo un po' Vediamo se c'è un'altra Probabilmente Esatto C'è una SQL exception Che mi dice che ovviamente La colonna artist ID È ambigua Perché c'è in entrambe le tabelle Quindi torniamo un attimo sul DAO E quindi prendiamo a caso Da una o dall'altra tabella Questa informazione Tanto abbiamo fatto il join Quindi la prendiamo ad esempio Della tabella artist A.artist ID Rilanciamo Rilanciamo Calligrafer Crea grafo Ancora Vediamo un po' Ah qui c'è un altro errore Ho sbagliato a scrivere il campo Artist Manca una T Riproviamo Ok Vedete che effettivamente qualcosa è cambiato Abbiamo sempre 210 archi Ma il numero di vertici sono di più Sono 48 Prima erano meno se non sbaglio Abbiamo alcuni vertici che sono isolati Non hanno adiacenze Va bene Io direi di lasciare questa soluzione Che forse in effetti è più generale Anche se poi non ci serve Ai fini delle richieste dell'esercizio Però effettivamente se scegliamo questa via Siamo sempre A priori siamo sempre sicuri che Sarà diciamo così corretta E potremo rispondere a tutte le richieste dell'esercizio Perfetto Ovviamente manca ancora una piccola parte del punto 1 Che è la stampa Si richiede di Premendo il bottone artisti connessi Stampare l'elenco delle coppie di artisti Ed il numero delle esposizioni comuni In ordine decrescente di quest'ultimo In sostanza questo è un punto molto banale Nel senso che è la stampa delle adiacenze Che abbiamo ottenuto cliccando su crea grafo Dobbiamo solo porre attenzione Nell'ordinare queste adiacenze Quindi andiamo nella nostra classe adiacenza Implements Comparable Di adiacenza E quindi dobbiamo ordinare In ordine decrescente di peso Quindi Facciamo una prova Poi se sbagliamo l'ordine Lo cambiamo al volo Return Dis.peso Punto Compar2 O punto Get peso Usiamo il Compar2 Della classe integer Che è definito da 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 java Della classe Integer Proviamo Vediamo se l'ordine è quello giusto Quindi nel Nel modello Noi abbiamo le nostre adiacenze E beh E allora Immaginiamo un metodo che ce le ritorni Public List Adiacenza Get adiacenze Return This Punto Get Adiacenze Adi a questo punto nel controller E in particolare nel metodo do artisti connessi Facciamo così Ci facciamo dare la nostra lista adiacenza Dis.model.get Adiacenze Importiamo un po' di cose Prima la list E poi L'adiacenza Ovviamente se Queste adiacenze Sono uguali a null C'è un problema Dobbiamo prima creare il grafo Quindi stampiamo un messaggio di errore Devi creare prima il grafo Return Altrimenti andiamo ad ordinarle Collections Punto sort No 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 Collections Punto sort Adiacenze Le possiamo ordinare perché abbiamo appena Definito il compare to Import collections Adiacenze Ottimo E poi andiamo a stamparle Una per riga Quindi for Adiacenza A in adiacenze System Punto No non system Ma txt Result Punto Append Text Eray string Punto Format Proviamo Con le parentesi Per cento d Virgola Per cento d Uguale Per cento d Slash n Quali sono i parametri A punto get a 1 A punto get a 2 A punto get peso Vediamo un po' se L'ordine è quello che ci serve Oppure no Proviamo sempre con Calligrafer Crea grafo Artisti connessi Problema Vediamo quale Stack Overflow Cosa stiamo facendo Di male Allora Collections Punto Sort Adiacenze Or Adiacenza In Adiacenze Vediamo un po' Ah si certo Stavo richiamandolo Stesso metodo Da qui dentro Quindi return Dis Punto Adiacenze Ovviamente Allora Riproviamo Per l'ennesima volta Ruolo Calligrafe Crea grafo Artisti connessi Direi che l'ordine Non riusciamo Non riusciamo a capirlo Perché qui Sono tutti pesi A uno Riproviamo un attimo Con designer Che abbiamo visto Prima Dare dei pesi Diversi Vediamo un po' Direi che l'ordine Direi che l'ordine Inverso Quello che vogliamo Perché dobbiamo Avere l'ordine Decrescente Semplicemente Andiamo Nella nostra Nella nostra Punto 2 Punto 2 Che era Ricorsivo Allora Permettere all'utente Di inserire Nella casella Di testo Artista ID Il numero Identificativo Di un artista Alla pressione Del bottone Calcola percorso Innanzitutto Dobbiamo verificare Che questo numero Inserito Sia corretto E che ci sia Nel grafo Altrimenti Dobbiamo stampare Un errore Se l'artista c'è Dobbiamo determinare Il cammino Più lungo Che parte Dall'artista Selezionato E che connette Gli altri artisti Che hanno Un ugual numero Di esposizioni Condivise Quindi In sostanza Deve essere trovato Il cammino Tra i vari artisti Che comprenda Solamente Archi Con peso uguale E che ovviamente Non comprenda Né cicli Né vertici Ripetuti Quindi Supponiamo Di partire Da un artista Questo artista Ha n vicini Li esploriamo Tutti Supponiamo Che L'artista Abbia Il vicino 1 Collegato Con un arco Di peso 1 E il vicino 2 Con un arco Di peso 5 Esploriamo I due percorsi Quindi Quando andiamo Verso Il vicino Con arco Di peso 1 Continueremo Cercando Il più lungo Cammino Che si può Ottenere Andando avanti Con archi Di peso 1 Quando invece Consideriamo Il vicino Che è collegato Tramite peso 5 Andiamo avanti Da quel vicino Cercando Cercando Tutto Un cammino Che continui Con archi Di peso 5 E via Dicendo Il percorso Più lungo Che riusciamo Ad estrarre Durante la ricorsione Quindi di archi Con tutti Ugual peso Quello sarà Il nostro Risultato Finale Perfetto Possiamo Tornare Su Eclipse E Impostare La nostra Ricorsione Quindi Chiudiamo Un po' Di classi Qui Perché altrimenti Non ci capiamo Più niente Chiudiamo Anche la console Ritorniamo Sul Sul modello E sotto Il crea Grafo Andiamo A impostare La nostra Ricorsione Avremo Un metodo Che ci Ritornerà Un percorso Che possiamo Modellare Come una lista Di vertici Vertici che per noi Sono interi Quindi Public List Integer Trova Percorso Ovviamente Questo metodo Riceverà Il nodo Di partenza Integer Sorgente Allora Come al solito Essendo un problema Diciamo così Di ottimizzazione Dobbiamo avere Nella nostra classe Modello Innanzitutto La nostra struttura dati Che andrà a contenere Il nostro percorso migliore Quindi Private List Integer Chiamiamola Best Questa Struttura dati La andiamo a creare Proprio qui In Trova Percorso Quindi This.best Uguale New Linked List Di Integer O in Linked List O Array List Visto che L'abbiamo Già usata Ok Poi avremo Sicuramente Una struttura dati Per contenere Parziale Per contenere I percorsi Che troviamo Via via Quindi le nostre Soluzioni parziali La possiamo definire Creare Direttamente Qua dentro Parziale Uguale New Array List Di Integer Ovviamente Quando impostiamo La ricorsione Possiamo già Aggiungere A parziale Il nostro Nodo Sorgente Quindi Parziale Ad Sorgente A questo Punto Avremo Un metodo Per lanciare La ricorsione Che andiamo A studiare Dopo Ricorsione Vediamo Dopo Che parametri Occorrerà Passargli E alla fine Della fiera Quando tutta La ricorsione Avrà finito Ritorneremo Il nostro Best Il best Che abbiamo Trovato Durante La ricorsione Quindi Cosa Conterrà Il nostro Metodo Void La ricorsione E che parametri Riceverà E qui Dobbiamo Ragionare Un attimo Allora Il concetto Quello che abbiamo Già visto In alcuni Esercizi Il concetto Di trovare Un percorso Quindi Fare Ricorsione Esplorare Le varie Le varie Direzioni A partire Dal nodo Sorgente Quindi Provo a mettere Un vicino Esploro La ricorsione Che va Verso Quel vicino E tutte le volte Tutte le volte Faccio Backtracking Quindi questo È abbastanza facile Però abbiamo Un vincolo Particolare Che ci può dare Un po' Noia Quello che Dobbiamo Cercare Dei percorsi Esplorare Dei percorsi In cui Tutti gli archi Abbiano Lo stesso Peso Quindi Partiamo proprio Dal primo passo Della ricorsione Io ho il mio nodo Sorgente Ho il mio nodo Sorgente E questo nodo Sorgente Potrà avere Più vicini Ovviamente Quando vado A Esplorare Il primo Di questi Vicini Devo Guardare Innanzitutto Qual è il peso Dell'arco Che collega Questi due Vertici Quindi Se Il mio nodo Sorgente È collegato Al suo Primo vicino Tramite un arco Di peso X Allora io In questo Percorso Questo percorso Lo dovrò Continuare Solo con Archi Di tipo Che abbiano Peso X Poi Quando tornerò Indietro Nella mia Ricorsione Al livello Iniziale Esplorerò Il secondo Vicino Del nodo Sorgente Supponiamo Che questo Arco Che collega Questi due Vertici Abbia Peso Y E allora In questo Caso Dovrò Continuare Questo Percorso Con Archi Solo Di Quindi dobbiamo Diciamo così Riuscire a Discriminare Quando siamo Al livello Iniziale Della Ricorsione In modo tale Da Considerare Solo i Percorsi Che abbiano Quel peso Lì Che Troviamo Tra il nodo Sorgente E uno Dei suoi Vicini Per questo Motivo Potremmo Pensare Di risolverlo In questo Modo Allora Il nostro Metodo Ricorsione Riceverà Sicuramente La lista Parziale Integra Parziale Ma Supponiamo Che riceva Anche Un valore Int Che è Il peso Il peso Con cui Dobbiamo Far partire Continuare La nostra Ricorsione Peso Che Possiamo Impostare Con un Numero Che sappiamo A priori Non esserci Nel grafo Per Discriminare Il fatto Che siamo Nel primo Livello Della Ricorsione Quindi Passo Parziale E al Primo Giro Diciamo così Alla prima Chiamata Passo Peso Pari A Ad esempio Meno Uno Sappiamo Che quel Peso All'interno Del grafo Non c'è A questo Punto Se io Se io Che il Peso È Meno Uno So Che sono Alla primo Giro Della Ricorsione Quindi So Che devo Salvarmi Il valore Del peso Tra il nodo E i suoi Vicini E continuare La ricorsione Solo con Quel peso Lì Quindi Innanzitutto Prendiamoci L'ultimo Nodo Inserito In Parziale Che ovviamente Nel primo Caso Quando peso Sarà uguale A uno Sarà La mia Sorgente Quindi Integer Chiamiamolo Last Uguale Parziale Punto Get Parziale Punto Size Meno Uno Ovviamente Prendo tutti i vicini Di Questo Questo Nodo Perché dobbiamo esplorare Tutti i percorsi Quindi Ottengo I Vicini E li ottengo Tramite la mia Classe Graphs Graphs Punto Neighbor list Of Perfetto Quindi Definiamo una lista Di Integer Vicini Uguale Graphs Punto Neighbor list Of This Punto Grafo Last Chiamiamolo Ultimo Visto Che stiamo Usando Tutti Nomi In Italiano Ok Ottengo Tutti Vicini Ovviamente Gli scorro Perché devo esplorare Tutte le vie Tutti i possibili Percorsi Quindi For Integer Vicino In Vicini A questo punto Fossimo In una In una ricerca Di un percorso Senza questo Ulteriore Vincolo Del Peso Noi faremmo Semplicemente Parziale Punto Add Di Vicino Poi Richiameremmo La ricorsione Parziale E poi faremmo Backtracking Parziale Punto Remove Vicino Questa struttura L'abbiamo già vista Ma abbiamo un vincolo In più In particolare Se siamo Al primo Giro Noi dobbiamo Tenere traccia Del peso Che collega La nostra Il nostro Ultimo Che nel primo Giro è la Sorgente Con Il vicino E continuare La ricorsione Con quel peso Lì Quindi If Weight Uguale Uguale A Meno Uno Io Aggiungo Il mio vicino Va bene Ma poi Faccio Continuare La ricorsione Fissando Il mio Parametro Peso Con il peso Dell'arco Che collega Il mio Nodo Al vicino Quindi This Punto Grafo Punto Get Edge Weight Dobbiamo Dobbiamo Tenere L'arco Dis Punto Grafo Punto Get Edge Tra Il mio Ultimo Che in questo Caso è la Sorgente E il mio Vicino Questa Esplorare Esplorare Il Solo Gli archi Che da qui in avanti Avranno Questo Peso Qui E come Modelliamo Questa cosa Che da qui in avanti Faremo Così Beh Nella Else Qua sotto Quando il peso Non sarà più Meno Uno Ma saremo In uno step Successivo Della Ricorsione A questo punto Non aggiungiamo Un qualunque Vicino Ma solo I vicini Che sono Collegati Con archi Di Questo Peso Quindi If This Punto Grafo Punto Get Edge Weight Di che cosa? Dell'arco Che stiamo Considerando Quindi Tra ultimo E il suo Vicino Ultimo Adesso Qui Non è più La sorgente Ma siamo Come detto Più avanti Nella Ricorsione Quindi This Punto Grafo Punto Get Edge Ultimo Vicino Ebbene Noi dobbiamo Imporre Che questo Peso Sia uguale Al peso Che abbiamo Ricevuto Che abbiamo Fissato Qui Al primo Passo Della Ricorsione Se Questo arco Ha peso Uguale Allora possiamo Continuare Il percorso Quindi possiamo Quindi possiamo fare Parziale Punto Added Vicino Poi Poi rilanciamo La ricorsione Parziale A questo Punto Il peso Ce l'abbiamo È fisso È sempre Lui Peso E poi Facciamo Backtracking Vicino Sì Qua non è Weight Ma è peso Manca ancora una cosa in questa parte di ricorsione Abbiamo detto non vogliamo ovviamente come sempre dei cicli Quindi dobbiamo anche sempre controllare che la nostra parziale non contenga già il vicino Che stiamo considerando quindi nelle if prima cosa da fare è anche controllare se parziale contiene o no il vicino quindi se non lo contiene posso andare avanti quindi if not parziale punto contains vicino And peso uguale 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 a meno 1 e stessa cosa qui sotto Questa è la parte in cui generiamo le soluzioni parziali Ovviamente manca la ricerca dell'ottimo Quindi la ricerca del percorso più lungo che noi troviamo con questo con il metodo che stiamo facendo Quindi if qua sopra avremo un metodo molto noioso da fare che ci darà il Andiamo a rivederci perché mi sono dimenticato la richiesta non mi ricordo più se è peso massimo oppure più lungo Si stampi il cammino tra i vari artisti che comprenda ok si stampa il percorso così Il cammino più lungo Ok Quindi Cammino più lungo lo possiamo misurare dalla size di parziale Quindi diciamo che se parziale punto size è maggiore di best punto size Sovra scriviamo best con parziale dis punto best uguale new array list di parziale Non ci richiede di valutare il peso ma solo il numero di vertici di questo percorso Questa if è indifferente se la mettiamo qui o se la mettiamo anche al fondo Anzi forse se la mettiamo al fondo facciamo un po' meno sovrascritture diciamo così Altre cose da aggiungere direi che la condizione di terminazione è implicita nel senso che la ricorsione si esaurisce Quando questo for termina cioè quando non ci sono più vicini da considerare E quindi direi che per il momento non vale la pena aggiungere nessuna return se non mi sto perdendo qualcosa Perché qui appunto esploriamo tutti i vicini Ci sarà un momento in cui queste if non ci lasceranno più aggiungere nessun vicino E quindi il for terminerà da sé e la ricorsione terminerà per questo motivo Quindi si ritornerà su senza bisogno di avere una return Proviamo se mi sto prendendo qualcosa ce ne accorgeremo sicuramente E quindi per provarlo cerchiamo di collegarlo al controller Quindi apro il mio controller E qui innanzitutto dobbiamo andarci a prendere l'id che l'utente ha inserito nell'area di testo Quindi integer id lo definiamo la variabile E poi diciamo che id è uguale a integer punto parse int this No come si chiama l'area di testo Txt artista punto Get value Get text scusate Ovviamente inseriamo questa parse int in una tra i cache in modo tale da controllare un primo errore Un primo possibile errore Number format exception E E avvisiamo l'utente txt result punto append text Inserire un id nel formato corretto Return L'id ovviamente non deve solo essere nel formato corretto ma deve anche essere un vertice del grafo Come facciamo a testare questa cosa qui? Beh dovremmo per forza crearci un metodo nel modello Che ci dica se un determinato id è presente oppure no nel grafo Public boolean grafo contiene Integer id Vediamo se il nostro grafo ha qualche metodo O anche la classe graphs Dovrebbe 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 Avere un metodo Si Contains 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 vertex Quindi if this punto grafo contains vertex id Ritorniamo true Ritorniamo true Altrimenti Ritorniamo False False Quindi questo metodo ci dice se un id c'è nel grafo oppure no Benissimo Lo usiamo Appunto Per stampare eventualmente un altro errore Quindi if not this punto grafo This punto model scusate Punto Grafo contiene Id Txt Result Punto append text L'artista Non È Un altro possibile problema che possiamo evitare è il fatto che l'utente non prema questo bottone prima di aver premuto prima di aver creato il grafo Lo possiamo fare in vari modi Forse il modo più facile è di Disabilitare il bottone calcola percorso quando il programma parte e abilitarlo quando il grafo viene creato Quindi ad esempio in set model all'inizio del programma setto questo bottone btn calcola percorso Punto Punto set Ah non mi ricordo il comando per impostare disabilitato e abilitato Vediamo un po' se lo troviamo Ok set disable All'inizio lo impostiamo come disabilitato Lo andiamo ad abilitare quando la creazione del grafo va a buon fine quindi alla fine del do crea grafo Set disable Perché altrimenti non ha senso permettere all'utente di andare avanti quindi questo è un altro modo per prevenire gli errori al posto di controllarmi a runtime abilito e disabilito i bottoni che sono permessi Ok Ritorniamo in calcola percorso Se siamo arrivati qui l'id è corretto è presente nel grafo e quindi possiamo recuperarci la nostra lista il nostro percorso Dis.model.trova percorso id Ottenuto lo stampiamo Quindi txtresult.appendtext Percorso più lungo Due punti magari mettiamo anche il numero di vertici Più percorso punto size Più slash n Sotto questo titolo andiamo a scorrere il percorso e stamparlo Quindi for list for integer V in percorso Txtresult.appendtext V più magari uno spazio Proviamo Proviamo Al solito direi di provare con calligrafer Artisti connessi Ovviamente in questo caso sono tutti peso 1 quindi Questa storia del peso in realtà Questo controllo che dobbiamo fare non sarà molto effettivo perché appunto tutti gli archi con calligrafer hanno peso uguale Però vediamo se funziona Prendiamo un id presente nel grafo Quindi uno delle varie adiacenze Tipo questo qui Calcola percorso Molto lento Quindi forse abbiamo Ho sbagliato qualcosa Oppure Impostato dei parametri per cui la ricorsione è molto lenta Stop un attimo Andiamo a vedere Proviamo magari con un Con un ruolo per cui il grafo non sia Non sia grosso Proviamo Questo No Zero archi Quindi non va bene Questo nemmeno Questo tanti archi Proviamo questo che ha solo 20 archi Anche qui il peso è sempre uguale a 1 ma non importa la nostra soluzione dovrebbe funzionare lo stesso Prendiamo un id Calcola percorso Ok Sembra funzionare Quindi percorso più lungo di 3 I 3 vertici E questi sono gli id a partire da quello che abbiamo inserito Quindi Sembra Sembra funzionare Ok Quindi ricapitoliamo quello che abbiamo fatto in questo In questo esercizio L'esame nel punto 1 era molto facile direi Ho scelto in particolare di sviluppare la soluzione più semplice possibile Inserendo come vertici del grafo degli interi Che modellano gli id degli artisti E' stata una mia scelta dopo aver analizzato il testo e dopo aver capito che il testo non chiedeva esplicitamente di stampare niente di strano Ok Ovviamente avrebbe funzionato anche andando a inserire come vertici degli artisti Quindi cosa dovevamo fare? Dovevamo crearci un'altra classe artist qua dentro Che modellasse gli artisti nella tabella del DB Dovevamo crearci probabilmente un identity map Perché andavamo ad inserire come vertici del grafo dei nostri Delle istanze di una nostra classe E quindi il tempo aumentava Ok Quindi io ho scelto la strada più facile Poi Come secondo punto era un punto ricorsivo Un'esplorazione di percorsi diciamo così Dove l'unica cosa a cui bisognava fare attenzione Era questo controllo sul peso degli archi Che abbiamo risolto in questo modo qui Quindi fissando al primo giro della ricorsione Il peso dell'arco che connette il nodo sorgente con uno dei vicini E continuando l'esplorazione sempre con quello stesso peso Quindi sempre con archi di peso uguale Ok Quindi questo conclude la risoluzione di questo tema d'esame Nelle prossime tre lezioni vedremo altre Con me e col professor Corno Altre tre risoluzioni di temi d'esame molto recenti Grazie dell'attenzione e buona giornata Altre tre risoluzioni di temi d'esame molto recenti